Buonasera a tutti, questo è un nuovo video, vi volevo parlare di un argomento delicato, l'eutanasia. Tutti sanno che cos'è l'eutanasia, cioè il suicidio assistito di quelle persone che sono in gravi sofferenze, che sono in coma farmacologico, però qua vi vorrei parlare di qualcos'altro. Pochi sanno che la Chiesa Cattolica e i preti, lasciamo perdere la condanna dell'eutanasia che naturalmente è condannata anche dalla legge italiana. Parliamo di quelle persone che sono in coma, che hanno un'attività cerebrole minima, un tumore metastatico. La Chiesa Cattolica favorisce l'accanimento terapeutico, quindi i preti, le suore e chi altro si divertono a vedere soffrire. Queste persone che non hanno più alcuna speranza di ripresa, di una pervenza di vita normale. Quindi diciamo, lasciamo perdere, come ho detto, l'eutanasia perché solo Dio ha diritto di togliere la vita. Ma anche i medici spesso sono contro l'accanimento terapeutico in quei casi senza speranza. La Chiesa Cattolica invece lo favorisce. In questo sembra di cogliere quella crudeltà che avevano gli inquisitori nei secoli passati. Un prete non sosterrà mai di smettere l'accanimento terapeutico. Quindi malati terminali, malati che soffrono, devono per forza restare in vita, per fare contenti i preti che si divertono a vedere le sofferenze altrui. Vi sono stati numerosi casi e nessun prete si è mai pronunciato contro l'accanimento terapeutico. Questo vi fa vedere che cosa sia la Chiesa Cattolica. Un prete, un uomo che sostiene l'accanimento terapeutico contro ogni speranza di ripresa dei malati terminali con tumori che hanno sofferenze indicibili. E la Chiesa insiste sempre, anche quando i medici dicono di sospendere tutte le cure, chemioterapia e radioterapia, i preti sostengono sempre l'accanimento terapeutico. Questo vi sono stati numerosi casi, taciuti dal Vaticano, taciuti dalle Chiese. Ciò sta a dimostrare che cosa siano i preti cattolici. Naturalmente tutto questo non viene raccontato, sono solo alcune vicende che vengono alla luce della Chiesa Cattolica. Ma il fatto di sostenere l'accanimento terapeutico nei malati terminali di tumore, o in persone che hanno avuto gravi incidenti e non sono più in grado di riprendersi, persone giovani che non riavranno mai più una vita normale, anzi non riavranno mai più una vita. I preti, le monache, se un medico dice lasciamo perdere, sospendiamo le cure perché significherebbe farlo soffrire solo di più, i medici dicono questo, un prete continuerà sempre a insistere con l'accanimento terapeutico e solo all'ultimo darà l'estrema unzione. Quindi, che cosa sono questi preti, queste monache, sadici? E' Dio che vuole questo? E' la loro crudeltà. Con questo vi voglio dire che questo sta a dimostrare cosa sia la Chiesa Cattolica. E' il bello che vengono criticati i testimoni. Ma non penso che nessun testimone di Geova, se un medico gli dice non c'è più niente da fare, sostenga l'accanimento terapeutico, tenere in vita, facendo soffrire quella persona a tutti i costi, per proseguire cure che non servono più a nulla. Ripeto, qua non parlo di età ed eutanasia, ma parlo di accanimento terapeutico, sostenuto a tutti i costi dalla Chiesa Cattolica. E questa è una dimostrazione di che cosa sia la Chiesa, quanti casi sono stati insabbiati di accanimento terapeutico, voluto dai preti e dalle suore. Questo vi fa vedere che cosa sia la Chiesa Cattolica, quale organizzazione sadica, criminale e corrotta. Con questo vi saluto. Io non sono una suore, non lo vorrei mai essere. Con questo è tutto. Vi saluto.